ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi volevo farvi vedere come preparo io la lista della spesa andiamo allora per prima cosa parto dalla colazione mi sono fatta questo schema per vedere quante volte cercare di non ripetergli sempre le stesse cose tutti i giorni e e quindi praticamente vado a vedere ciò che mi occorre e me lo segno nella lista della spesa quindi di latte più meno ne va un litro al giorno solo per loro che lo bevano al mattino e quindi io in genere ne prendo 10 litri perché 7 sarebbero un litro al giorno più i budini o la torta o comunque magari ne bevo un bicchiere io ne bevo un bicchiere mio marito e quindi 10 e quindi me lo segno poi passiamo a tutto il resto lui può mangiare in pratica latte con una di queste cose la torta in genere la tengo per la domenica mattina quindi nella lista mi vado a scrivere le fette biscottate una confezione basta per una settimana perché una spesa settimanale poi una confezione di pavesini poi per la torta in genere in casa sempre già tutto e poi scriviamo uno tipo tarallucci e uno tipo rosalva poi cereali basta una confezione dipende certe volte di prendo riso soffiato certe volte invece di prendo e il dipende i cotton flakes normali pane più marmellata la marmellata c'è sia quella che ho io a casa che ho fatto io l'anno scorso oppure in genere la compro come avrete visto dai video spesa se mi ho fatto io l'anno scorso oppure 100 per cento frutta prendo quella dell'euro spin perché così la può mangiare anche gabriele possono mangiare anche gabriele mio marito perché senza glutine per pane lui dovrebbe mangiare il pane integrale in cassetta adesso l'ho trovato per non prendere il pan bauletto l'ho trovato anche al lidl perciò dipende dove mi trovo lo prendo in genere vado all'euro spin quindi quindi un pane anzi no ho trovato al penny il pan carrente grane adesso finita la colazione spunterò qui pista per pranzo e ci per cena ovviamente la colazione non è pranzo o cena è unica e la vado a segnare scusate la tosse in base a quello che mangia quel giorno in modo da non farli mangiare poi il giorno dopo di nuovo la stessa cosa ma variando adesso passiamo allo spuntino lo spuntino che riguarda sia lo spuntino di metà mattina che lo spuntino che la merenda praticamente per quanto riguarda questo è un po più complicato perché vabbè pavesini potrebbe mangiare i pavesini quindi io vado ad aggiungerne uno alla mia lista che per il momento mi sto facendo ecco ve la faccio vedere scritta e poi la vado a passare sull'app che vi faccio vedere dopo poi il gelato nel suo piano alimentare in realtà non c'era ma l'estate io e mio marito vi hanno detto vabbè un giorno alla settimana glielo concediamo noi perché comunque è un bambino adesso è un ragazzino ma comunque è un bambino e quindi cosa facciamo non glielo facciamo mangiare il gelato l'unica cosa è che magari lo prendiamo alla frutta o poco pasticciato quindi pavesini pavesini l'abbiamo aggiunti yogurt magro devo pensare comunque che lo mangiano tutti quanti perché in genere quello che mangia lui lo mangiamo poi tutti in modo che non si vada a creare una sorta di rivalità nel senso oppure di presa in giro beh di presa in giro no perché sanno che non lo devono fare però eh tu mangi quello e noi invece magari mangiamo una cosa più buona o lui di arrabbiatura perché lui deve mangiare questo e gli altri invece magari mangiano una cosa più buona quindi sendo loro noi in sette io in genere ne prendo quella quantità lì siccome è appunto per la mattina e per la merenda però a scuola non glielo faccio portare quindi ci farà sicuramente due merende eh ne prendiamo eh quattordici quindi quattordici yogurt magro ovviamente quando lo faccio senza spiegarlo come sto facendo con voi è una cosa molto più veloce ma poi la barretta ne basta una confezione per quanto riguarda pane prosciutto e ricotta il pane eh vado a riprendere un'altra confezione del pane in cassetta integrale quindi invece di uno vado a segnare due e ricotta ce ne vanno almeno due confezioni quindi scrivo due ricotta e poi il prosciutto preferirei comprargli quello che affettano al banco però qui all'Eurospin non c'è ci sono solamente quelli quello confezionato e quindi e quindi prendiamo quello e quindi segno eh due più uno perché devo sempre pensare anche a Gabriele e quindi e quindi ne prendo due di quello normale tipo spalla cotta così e uno di quello proprio senza glutine per Gabriele poi potrebbe portare anche il parmigiano pane e prosciutto e ricotta facciamo eh quattro di prosciutto più due perché appunto lo andranno a mangiare due volte una volta lo porteranno a scuola e poi in un altro giorno invece lo mangeranno a merenda il parmigiano uguale non è che mi sconfinfera tantissimo questo preferisco darglielo una volta sola cioè a me piace tantissimo solamente che se entra in casa siccome io sono golosa dura pochissimo di conseguenza ne prendo uno solo ne prendiamo due due parmigiano a pezzi e poi siccome appunto mi perdo volentieri di ricotta ne dobbiamo prendere quattro perché lo dovranno mangiare una volta a scuola e una volta a casa e anche le barrette dobbiamo prendere due confezioni perché una confezione andrà per la volta che la portano a scuola e una volta andrà per la volta che la mangiano a casa e spremuta più biscotti oro saiva allora ho trovato all'euro spin questa questo succo di arancia rossa che è molto buono quindi quando diciamo non ci sono le arance non gliela posso fare io anche perché in generale siamo sempre molto di fretta è una cosa che comunque anche a scuola non possono portare come lo yogurt e quindi prendo quel succo lì di arancia rossa e quindi vado a segnare uno no due di arancia rossa e poi di nuovo vedete biscotti tipo oro saiva quindi vado a cambiare ve lo faccio vedere invece di uno tipo oro saiva ne mettiamo due come vedete ci sono tutte le correzioni ed è per quello che lo faccio prima su qui col quaderno poi passiamo finalmente al pranzo allora qui la situazione è complessa perché loro si fermano tante volte a scuola e quindi io metto che facciamo sono sette i giorni i ravioli in genere preferisco farli la domenica quindi vado a segnare tre confezioni di pasta ripiena e poi decido in base magari all'offerta magari una volta ci sono in offerta i tortellini una volta ci sono in offerta i ravioli dipende quello che in offerta prendo poi come vedete ci sono gli gnocchi farro orzo riso e pasta noi siamo più per la pasta e per il riso cioè nel senso l'orge il farro non è che però mi piacerebbe variare che mangiassero cose diverse non sempre le stesse qui sono solo sei come vedete perciò sicuramente un giorno dovrò riproporre una cosa che in genere è la pasta mangiando anche il secondo di pasta ne butto giù solo mezzo chilo perché siamo in cinque che mangiamo la pasta col glutine quindi andrò a segnare due di pasta da 500 oppure se trovi in offerta come adesso l'Eurospin quella da un chilo ne prendo un pacco solo e boom poi ci sono gli gnocchi gli gnocchi ce ne vanno almeno a tre confezioni quindi scrivo tre gnocchi anche lì dipende certe volte prendo le chicche certe volte prendo proprio invece gli gnocchi normali raramente li faccio io soprattutto adesso perché sono incinta e quindi mi fa fatica loro mi aiutano però comunque sta troppo seduta la pancia adesso poi sono alla fine quindi poi il riso ne prendiamo uno l'avrete già visto nel video spesa di quelli grossi da 5 chili e che così lo prendo una volta sola e quello lì ci dura in genere tutto il mese e scrivo riso grande e poi l'orzo e il farro facciamo due di orzo e uno di farro che alle orspin ce l'hanno l'ho già provati anche io sono buoni e in genere quelli lì li faccio cuocere prima perché magari ci posso fare delle insalate così magari ci inficcio dentro la carne e la verdura ed è un piatto unico cioè è tutto quanto per il pranzo poi ci va anche il condimento io in genere prendo sei di passata poi lui potrebbe mangiare il pesto quindi in genere prendo per una settimana ne prendo due di pesto più poi quello senza glutine per Gabriele e Maurizio che tanto pratica la pasta al pesto la mangiamo forse una volta quindi uno per loro basta alle urspine non c'erano devo per forza prendere da un'altra parte poi lo zafferano diciamo non sempre però per quando faccio il riso una di quelle due volte poi può mangiare vabbè con l'olio per quello che l'olio di oliva poi uno di olio extravergine e poi ci può mettere il formaggio quindi andiamo a prendere il formaggio che usiamo noi di solito che l'avrete già visto nello svuot alla spesa quello da 99 centesimi dell'euro spin per noi e l'altro per per Gabriele e Maurizio quindi vado a segnare beh dipende comunque in genere magari faccio 4 6 buste poi magari le metto nel freezer e poi magari può darsi anche che la settimana successiva non lo devo prendere invece il pane mi credo che le grissini e le patate sono per la cena e in genere essendo 4 praticamente le patate le faccio una volta sola e quindi vado a scrivere uno di patate prendo un sacco da 5 chili oppure prendo le patate ma quelle lì le prendo po' cioè non è che andrebbero proprio bene per farle al forno quelle lì già pronte surgelate dipende un po' anche lì se magari sono in offerta per cambiare e poi c'è pane cracker e grissini cracker e grissini li vado a prendere all'eurospin e prendo uno di cracker perché dovrebbero bastare ed i grissini invece ne prendiamo due perché i pacchettini sono piccoli ce ne sono pochi invece i cracker se non erro ce ne sono a sufficienza per farci due volte in una settimana quindi il pranzo la prima parte è quella che riguarda il primo diciamo l'abbiamo risolta per quanto riguarda la verdura e la frutta che va sia a pranzo che a cena ve le parlo dopo in fondo adesso andiamo avanti e passiamo alla cena alla cena è il secondo del primo del pranzo cioè praticamente è un casotto perché così è giusto praticamente noi avremmo ci sono quattordici una volta una volta la pizza in genere cerco di farla al sabato certe volte la faccio io certe volte la prendiamo sul gelato già fatta e quindi vanno a segnare praticamente dipende se prendo quelle lì rotonde è una pizza per uno dipende un po' quali pizze prendo comunque in pratica devo prenderne due pizze senza glutine più cinque pizze in genere la prendo margherita poi magari ci aggiungiamo qualcosa noi sopra oppure se i bambini sono con me a fare la spesa magari si scelgono quella che lì garba un pochettino di più poi qui va per quanto riguarda questa parte lascio molto generale e guardo poi lì sul momento quale cosa prendere tipo carne rossa la possiamo mangiare una volta allora io scrivo uno carne rossa so che devo prendere la carne rossa per mangiarla una volta sola poi scrivo due carne bianca e so e so che devo prenderne per mangiarla due volte e guardo un po' quello che è in offerta poi il pesce ecco sul pesce a me non è che mi garba tantissimo però fa bene loro comunque carne queste cose qua le mangiano già anche a scuola quindi non è che anche qua pesce scrivo tre pesce e poi guardo molte volte prendo le cose surgelate perché io il pesce fresco non è che andiamo tanto d'accordo e poi le faccio magari cuocere al forno invece di farli fritti se no non serve a niente formaggio scrivo due formaggi magari prendo tipo la mozzarella per una volta e magari lo stracchino per l'altra i salumi non è che a noi ci garbano tantissimo devo essere sincera poi per quanto riguarda quindi preferisco magari prendere una volta in più la carne bianca e una volta in più la carne rossa piuttosto che i salumi non è una cosa che noi mangiamo normalmente se non appunto magari per fare pane prosciutto e ricotta se no non ci piace ne ho parlato anche con la nutricionista ha detto che va benissimo quindi vado ad integrare scrivo tre carne bianca e due carne rossa poi ci sono le uova due volte e quindi in genere ne prendo due confezioni scrivo due conf uova e poi se tipo non so per la torta ecco mi potrebbero servire o per fare una colazione tipo per me magari diversa se non mi va qualche cosa di dolce allora scrivo vado per integrare aggiungendo più uno so che ne devo prendere una confezione in più legumi diciamo che adesso andando nel periodo caldo li mangiamo un po' più spesso magari faccio ecco che non dovrei farlo però magari ecco nell'insalata magari ci butto dentro i fagioli cannellini se no stavo dicendo torno i fagioli ma in realtà non va bene e quindi scriviamo due legumi e poi in base a come a quello che c'è che mi viene in mente lo faccio il piatto unico è difficile che lo faccia in realtà e quindi praticamente siamo a posto la pizza ovviamente si mangerà alla sera per cena mentre le altre cose vanno suddivise per per il pranzo e la cena e poi in fondo l'extra e il dolce una volta io gli lascio il gelato e e poi a ogni pasto la verdura e la frutta anche in questo caso vado a dire benissimo di verdura me ne serve sia per pranzo che per cena quindi mi serviranno 14 idee per la verdura diverse allora io scrivo 14 verdura ora la verdura non ha una grandissima conservazione e poi io non ho un frigo mega galattico quindi non la vado a prenderla per tutti i 14 pasti in genere magari la prendo tipo se vado a fare la spesa lunedì fino al mercoledì in realtà non lo faccio sempre mi piacerebbe però riuscire a farlo sempre prenderla per il lunedì martedì e mercoledì più o meno diciamo fino a martedì sera poi il mercoledì mattina nel paese qua vicino fanno il mercato e quindi mi piacerebbe andarla a prendere lì e quindi poi dal mercoledì cerchi di arrivare fino magari a non so giovedì venerdì sabato domenica non so dipende dal mercoledì e se riusciti a prenderla già fino a domenica altrimenti dovrei andare giù il venerdì nella cittadina che sta vicino a noi che fanno di nuovo il mercato però avrebbe uscire così tante volte mi è possibile adesso che loro sono a scuola nell'estate che loro sono a casa e poi adesso con l'arrivo della piccolina non so se sarà fattibile quindi uscire una volta sola sarebbe meglio e poi la frutta uguale alla frutta dovrebbe mangiare un frutto alla fine del pranzo e un frutto alla fine della cena anche la frutta cerco di prenderla segno 14 frutta quindi però magari poi prendo non so le mele quello che è in offerta in genere anche qui uguale per la verdura quella che è in offerta e poi quando arriva il mercoledì che c'è il mercato nel paese vicino vado a prendere quella che mi serve per arrivare fino a domenica anche perché comunque siamo sette e fa presto da andare via non può mangiare le banane o l'uva che sono quelle che ci piacciono di più ovviamente come tutto quanto sempre quello che ci piace di più che non si può mangiare e niente quindi io in pratica baso la spesa su questo questo schema che vi ho fatto vedere che mi sono fatta io l'ho fatto appunto perché così mi segno e soprattutto qui per quanto riguarda questa siccome tipo i formaggi vanno mangiati due volte però per non darglieli lo stesso giorno o per non magari darglieli distanziati tipo se magari lo mangio a lunedì a cena diciamo perché a pranzo è a scuola o lunedì a pranzo a scuola io poi posso andare a vedere e dire beh magari glielo do di nuovo giovedì tipo a cena perché e boh e basta quindi questo è come faccio la spesa io adesso vi faccio vedere l'app su cui scrivo poi riporto la mia lista perché mi viene più facile averla sul telefonino perché poi il foglio me lo dimentico lo perdo si stropiccia dovrei avere la matita per spuntare quello che ho già preso invece facendo così col telefono il telefono ce l'ho sempre dietro l'unica cosa che vado poi ad aggiungere alla lista è faccio un penso a tipo l'olio di oliva l'olio di semi quello che mi manca in dispensa oppure la pappa per i gatti le crocchette per i gatti le crocchette per i cani il riso associato per i cani sono tutte cose che aggiungo poi in un secondo momento e e niente quindi prima faccio quella mangiareccia e poi aggiungo tutto il resto detersivi a parte quello per la stoviglie no ne aggiungo perché ero una cuponista e ho ancora scorta di quando facevo usavo i cuponi e partecipavo ai concorsi e niente quindi quelli lì non ancora per molto però non li devo comprare l'unica cosa che prendo è la morbidente perché l'ho finito e l'etersivo per la lavastoviglie perché l'ho finito questa volta non mi serve né uno né l'altro come prima settimana diciamo con cui devo andare poi a fare la spesa appena arriva lo stipendio dovrò segnare solamente tutto ciò che riguarda gli animali e l'olio perché non ne ho più e niente adesso vi faccio vedere l'app e quello che mi ha colpito di questa app l'app che uso per la lista della spesa questa nuova che ho trovato che vi ho detto mi piace questa la lista della spesa dentro come potete vedere potete mettere varie liste noi abbiamo Eurospin farmacia cose extra e Penny Market e Penny Market prendo la ghiaia per i mici e vado a segnare il pesto senza glutine si può fare più poi si può scegliere in che categoria beh io lo metto nei prodotti in scatola diciamo e si può mettere il prezzo delle note e una foto addirittura il prezzo io non me lo ricordo quindi lo andrò poi ad aggiungere quando sarò al Penny quella cosa bella che piace a me di questa app che volevo farvi vedere è che come vedete qua c'è il totale di tutta la roba che noi abbiamo messo in questa lista qua invece viene scritto qua quantità acquistata se noi andiamo a cliccare sopra ghiaia amici come se l'avessimo presa lì il totale rimane quello però ti dice che la quantità acquistata finora è di 4,18 euro per me è comodo perché almeno so prima poi quando arrivo alla cassa quanto vado a spendere adesso vi faccio vedere devo levare la spunta nell'euro spin è ancora meglio perché vabbè c'è tanta roba vi faccio vedere come vedete qua rimane il totale però là viene la quantità acquistata e quindi si ha sempre prima bene l'idea di quello che poi alla fine si va a spendere ah poi ovviamente vabbè c'è l'acqua frizzante io non l'ho non l'ho segnata nella lista non vi ho detto comunque noi usiamo la brocca per l'acqua naturale e l'acqua frizzante se lo compriamo e poi adesso sto prendendo il patè per i micini iniziano ad avere fame sto iniziando a svezzarli quindi gli prendo il patè e queste qua sono le cose che ho già aggiunto io nella lista che che volevo comprare andiamo a modificare la pasta non vi farò vedere tutto quello che che andrò a inserire perché se no il video dura 6 anni però era tanto per farvi vedere vedete come funziona e niente poi per eliminare invece si può cliccare sopra e qua vengono fuori vedete vengono fuori sposta l'articolo su un'altra lista copia l'articolo su un'altra lista cancella l'articolo vedi i dettagli dell'articolo io in questo momento il pancareno lo devo comprare quindi o vado a modificarlo ma non c'è oppure lo cancello e boh la mortadella non ci serve noi possiamo però andare a modificare facendo così scriviamo prosciutto cotto e abbiamo detto ce ne servivano 4 costa 0.99 salvo vado poi a inserire una nuova voce dove scriverò prosciutto cotto SG senza glutine qua ce ne servono due nella categoria io metto carne e pesce e questo qua invece non lo so quanto costa e niente vado avanti così finché non ho inserito tutte le cose che mi serviranno poi per fare per fare la spesa gli articoli che non mi interessano li cancello e basta per esempio il ragù non lo faccio sempre certe volte invece magari faccio il ragù quindi faccio la pasta con il ragù e poi c'è la verdura e la frutta perché la carne è già dentro al sugo quindi comunque ci si può molto versatile e puoi arrangiartela tu nel senso che poi ognuno fa quello che vuole e se la gestisce anche questo non ci serve l'unica altra cosa su cui devo lavorare è oltre a questa qua dopo che io ho fatto questa lista e l'ho passata qui sopra vado a decidere cosa preparare per il pranzo a sacco per Emanuele e Giorgia che lo fanno il lunedì il martedì e il giovedì e Giorgia lo fa anche il venerdì quindi devo cercare devo segnare cose per fare il pranzo a sacco per questi quattro giorni ma quello e quello lì lo vado a fare dipende quello che mi chiedo a loro quello che vorrebbero mangiare o quello che penso io e tipo questa settimana gli ho fatto il plum cake salato con broccoli e gustel e quindi vado poi un po' a decidere in base a cedendo anche a loro e poi quella cosa lì le aggiungo alla lista comunque in generale come la faccio io è così poi inserisco tutto nell'app il foglietto lo infilo nella borsa non mi piace tanto avere la carta perché come vi ho detto sono più la volta che me la dimentico che quella che me la porto dietro non riesco a seguire sempre questo piano come vi ho fatto vedere ci provo ma tante volte non ce la faccio comunque il video è finito spero che vi sia piaciuto e se avete domande se avete consigli per migliorare sono ben felice di di ascoltarli e di leggerli e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao